Musica Ritorna all'appuntamento con Tra le righe incontro con l'autore, ritorna nei nostri studi e lo accolgo davvero con grande piacere e affetto il professor Giovanni Chifari. Ciao Giovanni, ben trovato. Grazie a te Paola e grazie a tutti coloro che ci seguono. Appuntamento, questo secondo appuntamento per continuare a parlare del tuo libro dedicato ai gruppi di preghiera di Padre Pio, Origine, Spiritualità e Servizio, edito dalla LDC. Allora Giovanni, nella prima parte di questa intervista abbiamo percorso un po' la storia dei gruppi di preghiera e ci è anche raccontato da dove è nata la necessità di pubblicare questo libro. C'è una dedica particolare che tu hai voluto fare? Certamente quella a Monsignor Michele Castoro che ho avuto l'onore di poter accompagnare in questi anni lungo il suo servizio reso all'opera di Padre Pio. dietro questi scritti c'è la sua presenza, la sua vicinanza, la sua approvazione in tutto il percorso che in questi anni si è fatto insieme, ma anche la collaborazione con i tre segretari generali che si sono assecondati in questi anni. Il primo con cui ho potuto collaborare è stato Padre Marciano Morra che tutti i nostri telespettatori conoscono molto bene, con la sua simpatia, con la sua ironia, con la sua capacità di entrare dentro il cuore delle cose, la sua capacità di essere un grande comunicatore come tutti conoscete e da lui ho imparato molto, devo dire, come anche dalla profonda spiritualità di Padre Carlo Maria Laborde, l'altro segretario generale, un uomo che trasmette pace in tutti coloro che riescono ad avere la sua mediazione, la sua vicinanza. Padre Carlo ha viaggiato il mondo, ha girato il mondo, poi mi raccontava le cose e io scrivevo. Ho potuto attingere alle sue esperienze con i gruppi di preghiera, quindi poterle anche ricalibrare dentro questo testo. E per ultimo, ma non per ultimo, perché di lui avevo già letto i libri, Padre Luciano Lotti, che è uno dei più noti e profondi conoscitori di Padre Pio e della sua opera, dietro questo libro c'è anche l'attenta lettura di tutti gli scritti di Padre Luciano. Insomma, se uno vuole conoscere Padre Pio, deve studiare anche quello che Padre Luciano ha detto e scritto. Quindi ringrazio tutti loro per il servizio reso in questi anni. Ottimo, quindi è dedicato un po' a loro questo Monsignor Punto Castore, anche un po' a loro. Che ti hanno, se vogliamo, anche un po' ispirato nella stesura di questo libro. Allora, altre due parole importanti che ci aiuteranno in questo percorso alla scoperta del tuo libro, Giovanni. La spiritualità dei gruppi di preghiera è il servizio. Tu scrivi che la spiritualità dei gruppi di preghiera può definirsi una spiritualità laicale. Che significa questo? Sì, innanzitutto è interessante chiarire il concetto di spiritualità, perché spesso questo termine è utilizzato nel linguaggio comune in modo un po' improprio. Spiritualità significa che lo Spirito Santo sta partecipando a quest'opera, a questa azione. Non fa riferimento a un qualcosa di ideale, di astratto, ma fa riferimento ad un'esperienza concreta, incarnata, se così possiamo esprimerci. Dunque, la presenza dello Spirito si traduce in un'aggiunta di umanità, non in una sottrazione di umanità, proprio per dire che la spiritualità non è astratta, ma è incarnata, è storica. E così, la spiritualità dei gruppi, anche grazie alla geniale e profetica intuizione di Padre Pio, è una spiritualità laicale che ha coinvolto i laici. Ma perché? Perché evidentemente lo Spirito soffiava in questa direzione, già prima del concilio, perché Padre Pio interpella i laici come i suoi collaboratori, già prima di questa assise ecumenica, e poi riceve un nuovo slancio anche dopo. Tutt'oggi la Chiesa punta molto sui laici. È lo stesso esito della parola di Dio, che prima del concilio sembrava essere una prerogativa soltanto per pochi. dopo il concilio, con la Dei Verbum e con tutto il lavoro della Pontificia Commissione Biblica, gli interventi magisteriali, ma anche il lavoro delle facoltà teologiche, dove anch'io insegno, se Giesa e il Nuovo Testamento, si è cercato di portare la parola di Dio a tutti. E questo è molto importante, perché quando si sperimenta il primato della parola di Dio, come a Emmaus, allora si riconosce Gesù nell'Eucaristia. E allora, se si comprende il senso profondo dell'Eucaristia, si possono servire i fratelli. Ed ecco i tre punti che io ritengo centrali della spiritualità, dei gruppi di preghiera, alla luce del concilio Vaticano II. Il primato della parola di Dio, la centralità dell'Eucaristia e il servizio ai fratelli. Ecco, analizziamo questi tre passaggi. Quindi, la parola di Dio, quindi i gruppi di preghiera devono porsi all'ascolto della parola di Dio. L'Eucaristia, quindi la partecipazione alla Santa Messa e poi il servizio ai fratelli. Sì. Aiutami a rendere concreti queste tre affermazioni. Sì, guardiamoli inizialmente nell'itinerario storico dei gruppi di preghiera in Padre Pio. In Padre Pio il centro di tutto era la Messa. Si partiva dalla Messa. Ma perché vivevamo ancora prima del concilio. Tuttavia, se andiamo a vedere le lettere di Padre Pio, lui scrive su qualcosa in riferimento alle sane letture, alla scrittura, all'assidua lettura della scrittura, oppure anche ai metodi di avvicinamento all'Alexio Divina. Sembra recepire questo metodo. Per esempio, lo suggerisce a Raffaellina Cerase. E allora significa che Padre Pio aveva questa sensibilità. E nel libro lo dico. Padre Pio durante la lettura della parola di Dio piangeva. E glielo chiedevano, perché piangi? E lui rispondeva, e ti pare poco che Dio accetta di parlare all'uomo? Quindi aveva questa sensibilità del Dio che ci parla, della possibilità di entrare in dialogo con Dio. Perché gli appartenenti ai gruppi di preghiera, ma non solo, tutta la Chiesa, deve poter dare il primato alla parola di Dio. Perché la parola di Dio purifica la preghiera. E ti rende presente cosa domandare al Signore. Perché si può pregare con la parola di Dio. E dare il primato alla parola di Dio significa assumere un principio interiore, interno alla tua coscienza, che la ritesse, la guarisce. È una sorta di terapia. Ripetersi le parole di Dio fa sì che queste abitino in noi. E una volta che abitano, diventano una possibilità per interpretare i fatti della vita alla luce della parola. Perché la coscienza funziona come uno specchio. Riflette quello che hai dentro. Se abbiamo dentro parole non buone, ci ricorda e riflette quelle. Se abbiamo dentro la parola di Dio, questa parola di Dio interpreta la vita che stiamo vivendo. Primato della parola, dunque. Primato, esatto. Volevo chiederti anche qualcosa a proposito del servizio, che ribadisco è la terza parola che tu hai scelto nel sottotitolo del libro. In che modo i gruppi di preghiera devono dare e essere a servizio dei fratelli? La parola di Dio conduce i gruppi all'Eucaristia, a questo sacrificio di Cristo, al quale tutti i cristiani partecipano attraverso l'offerta della loro stessa vita. Dirà San Paolo, nella Lettera dei Romani, capitolo 12, attraverso un sacrificio di suave odore, di suave profumo, offerto al Signore. È l'offerta di una vita. Il senso dell'Eucaristia. Quando si comprende il senso dell'Eucaristia e si riconosce Gesù nell'Eucaristia, allora quando vai a servire i fratelli, stai servendo il Signore Gesù. Il servizio non diventa una possibilità di autoreferenzialità, di egoismo velato, di appagamento di una certa parte della tua coscienza, non in quei termini in cui dicevamo prima, come coscienza, ma diventa la possibilità di incontrare il Signore. Ma lo ha detto anche Papa Francesco più volte. Il servizio deve avere questo fondamento. deve nascere dall'esperienza di Dio in Cristo, dall'esperienza di Gesù. Altrimenti, che cos'è? Non sarebbe distinto o dissimile da una ONG. L'ho detto proprio Papa Francesco in uno dei primi discorsi ai Cardinali. L'ho detto proprio allora. Giovanni, rispetto alle origini, rispetto ai primi anni della presenza dei gruppi di preghiera, rispetto poi al punto dopo il 68, con la morte di Padre Pio, dicevamo anche nella puntata precedente, c'è stata una grande diffusione, una nuova primavera dei gruppi di preghiera. Oggi, che cosa è cambiato rispetto al passato oggi? Se c'è stata un'evoluzione o anche, sai, un po' di... i gruppi di preghiera magari si sono lasciati anche un po' trascinare o hanno perso l'entusiasmo iniziale. Com'è oggi la situazione? Si osserva un certo declino per quanto concerne l'Italia, ma da un punto di vista numerico. Un po' di stanchezza, forse. Vengono meno i testimoni diretti di Padre Pio ed è necessario che ci sia un ricambio generazionale, questa volta fondato sulla reale autenticità del carisma. Perché se il carisma è vero, come è tale, e viene dallo spirito e c'è il suo primato, allora bisogna, secondo me, riandare a quel percorso che è suggerito la Chiesa nel Concilio, e cioè parole, eucaristia e servizio. Attraverso questa dinamica, questa scansione, si può riandare a quell'esperienza sorgiva, la stessa alla quale si è assoggettato Padre Pio, perché Padre Pio mai indicava sé, ma il Cristo riconosciuto e servito nella parola lo riconosceva nell'eucaristia e poi nei fratelli, con tutte quelle sue opere sociali. E dunque, secondo me, è necessaria questa rinnovata maturità, questa anche fatica nell'affiancare lo studio e la preghiera. Perché non è detto che anche i gruppi di preghiera non devono studiare? Hanno i loro momenti formativi e noi lo sappiamo che ce li hanno, insomma. L'esperienza deve essere questa, di rinnovare l'esperienza di Dio, non accontentarsi di un rapporto standardizzato, ne parlo nel quinto capitolo, di questo rapporto con il sacro, di un'esperienza di Dio che si accontenta di ringraziare e di non entrare in una relazione più profonda con Dio. Come si entra in questa relazione? Se la preghiera è accompagnata da questa rinnovata consapevolezza di una identità cristiana, battesimale, di un servizio ecclesiale, tutto questo va ripreso. Allora, ricordo a tutti quanti gli amici che ci stanno seguendo, appartenenti e anche no ai gruppi di preghiera, il libro del professor Giovanni Chifari qui con noi oggi, edito dalla LDC, i gruppi di preghiera di Padre Pio, origine, spiritualità e servizio. Grazie ancora per essere stato con noi e alla prossima pubblicazione, Giovanni. Grazie a voi. Grazie a voi.